mi scrivi che hai dato a un tuo amico delle lettere da consegnarmi mi inviti poi a non discutere con lui di tutto quello che ti riguarda poiché tu stesso non ne hai l'abitudine così nella stessa lettera affermi e poi neghi che quello è tuo amico se usi una parola specifica in senso generico e lo chiami amico come noi chiamiamo onorevoli tutti quelli che aspirano a una carica pubblica oppure salutiamo con un caro che incontriamo se il nome non ci viene in mente lasciamo perdere ma se consideri amico uno e non ti fidi di lui come di te stesso sbagli di grosso e non conosci abbastanza il valore della vera amicizia con un amico decidi tranquillamente di tutto ma prima decidi se è un amico una volta che hai fatto amicizia ti devi fidare prima però devi decidere se è vera amicizia confondono i doveri dell'amicizia sovvertendo nell'ordine le persone che contrariamente agli insegnamenti di teofesto dopo aver concesso il loro affetto cominciano a giudicare e avendo giudicato non mantengono l'affetto rifletti a lungo se è il caso di accogliere qualcuno come amico ma una volta deciso accoglilo con tutto il cuore e parla con lui apertamente come con te stesso vivi in modo da non aver segreti nemmeno per i tuoi nemici poiché però ci sono cose che è abitudine tener nascoste dividi con l'amico ogni tua preoccupazione ogni tuo pensiero se lo giudichi fidato lo renderai anche tale chi ha paura di essere ingannato insegna a ingannare e i suoi sospetti autorizzano ad agire disonestamente perché di fronte a un amico dovrai pesare le parole perché davanti a lui non dovrai sentirmi come se fossi solo c'è gente che racconta al primo venuto fatti che si dovrebbero confidare solo agli amici e scarica nelle orecchie di uno qualunque i propri tormenti altri invece temono persino che le persone più care vengano a sapere le cose e nascondono sempre più dentro ogni segreto per non confidarlo se potessero neppure a se stessi sono due comportamenti da evitare perché è un errore sia credere a tutti sia non credere a nessuno ma direi che il primo è un difetto più onesto il secondo più sicuro allo stesso modo meritano di essere biasimati sia gli eterni irrequieti sia gli eterni flemmatici non è operosità godere dello scompiglio ma lo sbagliare di una mente esagitata come non è quiete giudicare fastidiosa ogni attività bensì fiacchezza e indolenza ricorda bene perciò questa frase che ho letto in pomponio c'è chi si tiene così ben nascosto che gli sembra tempesta tutto ciò che succede sotto il sole bisogna saper conciliare queste due opposte tendenze chi è flemmatico deve agire e deve calmarsi che è sempre in attività consigliati con la natura ti dirà che ha creato il giorno e la notte stammi bene